Hey Lisa, è bello che tu sia tornato. Sì, i miei arresti domiciliari sono finalmente finiti. Cosa dovremmo fare quest'estate? Abbiamo sei settimane gratis. Cosa hai voglia di fare? Possiamo andare in piscina. Ci siamo stati la settimana scorsa. Voglio fare altro. Hai un'idea? Possiamo costruire una casa sull'albero. Allora potremo viverci tutta l'estate. Ehi, è una buona idea. Lo penso anch'io. Di cosa abbiamo bisogno, Marcus? Solo legno e corde per ora. Ok, prenderemo la legna. Sara, Samuel, potete prendere le corde? Sì, lo faremo. Ok, ci rivediamo qui tra 30 minuti. A presto. Gli alberi qui hanno un bel aspetto, vero? Sì, sono perfetti. Anche il legno è secco. Ok, e cosa facciamo adesso? Non posso semplicemente portare l'albero. No, dobbiamo prima abbatterlo. Ok, mettiamoci al lavoro. Spero che gli altri abbiano la stessa fortuna che abbiamo noi. Vedi una corda qui intorno che possiamo usare? No, non c'è niente qui. E siamo in giro da 20 minuti. Pensi che troveremo qualcos'altro qui? Non lo so. Ma dobbiamo provarci. Non possiamo semplicemente deludere gli altri. Allora andiamo in quella direzione. Non ci siamo ancora stati. Come va per te, Marcus? Beh, ho quasi finito e tu? Sì, anch'io. Spero che abbiamo abbastanza legna per la casa sull'albero. L'albero è enorme. Il legno è sicuramente sufficiente. Ehi, c'è qualcosa lassù. Sembra buono, vero? Sì, è perfetto. Puoi arrivarci? No, è troppo alto. Ho bisogno del tuo aiuto. Ben fatto Lisa. Puoi portare la legna? Sì, ma è davvero difficile. Ok, allora sbrighiamoci. Portiamo la legna agli altri. Sara, Samuel, dove siete? Siamo noi, Lisa e Marcus. Divertente, dove sono? Forse stanno ancora cercando la corda. Non può essere così difficile. Puoi sbrigarti. È davvero estenuante. Ehi, neanche il mio lavoro è facile. Sto facendo del mio meglio qui. Il tuo lavoro è così duro. Guardami. Comunque, perché io sono in basso e tu in cima? Se pensi di stare meglio qui, lo scambieremo. Sono sicuro di poterlo fare meglio. Vedete quanto è difficile adesso? Cosa c'è di difficile in questo? Ho già la corda. Possiamo tornare agli altri. Ok, andiamo. Finalmente sei arrivato. Perché ci è voluto così tanto? Salve. Sapete quanto è difficile trovare una corda qui? Il tuo lavoro era molto più semplice. Questo non è vero. Il nostro lavoro è stato davvero difficile. Non così duro come il nostro. Ehi, smettila di lottare. Cominciamo a costruire la casa sull'albero. Marcus ha ragione. Prima avremo finito, più ci divertiremo con questa cosa. Ok, iniziamo allora. Marie, sai dove sono Lisa e Samuel? Penso che stiano giocando nel bosco con i loro amici. Perché me lo stai chiedendo? Penso che Milo debba andare in bagno. Puoi andare con lui? No, sto cucinando adesso. Perché non vai con lui? Le partite di calcio iniziano tra pochi minuti. Volevo guardare le partite. Allora guarda il riepilogo più tardi. Dai, Milo deve uscire. Forza Milo, andiamo a fare un giro veloce. Dove stanno i bambini così a lungo? Ora devo fare una passeggiata con Milo. Volevo guardare la Bundesliga oggi. Va bene, smetterò già di lamentarmi. Ma mi chiedo ancora dove siano i bambini. Che aspetto ha, ragazzi? Stai facendo progressi. Le cose mi stanno andando bene. Anche per me. Ho quasi finito. Qual è il tuo lavoro, Lisa? Mi assicurerò che tutto vada secondo i piani. Quindi non commettiamo errori. Questo è il menù dei MC German, non un progetto. Uh sì, vado a prendere anche il pranzo per noi. Muoviti il sedere qui e mettiti al lavoro. Se partecipi, lo faremo più velocemente. Ok, sto già arrivando. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo costruito una casa sull'albero. Sono davvero orgoglioso di noi. È stato davvero un sacco di lavoro. Ma ne è valsa la pena. Entriamo e lo vediamo dall'interno? Sì, entriamo. Sembra ancora più bello dall'interno. Marcus, hai persino installato Windows? Sì, possiamo sempre vedere la foresta la sera. Abbiamo solo bisogno di qualche altro mobile. Allora è davvero accogliente qui. Ho alcune cose nella mia stanza. Possiamo portarli qui. Allora possiamo dormire anche qui. Buona idea, Samuel. Prendiamo solo roba da casa. Forza Lisa, andiamo a prendere la roba velocemente. Papà, cosa stai facendo qui? Potrei chiederti la stessa cosa. Dovevi essere a casa un'ora fa. Ci è voluto più tempo. Perché? Abbiamo costruito una casa sull'albero. Vogliamo vivere lì per qualche settimana. Perché vuoi dormire in una casa sull'albero? Hai un letto caldo e accogliente a casa. Perché è più bello? Ok, fai quello che vuoi. Ma per favore fatecelo sapere la prossima volta. Possiamo ritirare alcune cose da casa? Abbiamo bisogno di mobili per la casa sull'albero. Ok, ma ridammela più tardi. Quando pensi che torneranno Lisa e Samuel? Sono sicuro che torneranno subito. Possiamo trovare qualcosa da mangiare. Forse troveremo delle bacche o qualcosa del genere. Sì, è una buona idea. La casa sull'albero qui è nuova, vero? Non l'ho ancora visto qui. Cosa stanno pensando? La foresta ci appartiene. A nessuno è permesso costruire una casa qui così. Pensi che ci sia qualcuno lì dentro? Non lo so. Bussa alla porta e vedi se esce qualcuno. L'hai sentito? Sì, qualcuno ha bussato. Chi potrebbe essere? Forse Samuel e Lisa torneranno. Scopriamolo. Ehi, cosa stai facendo nella mia foresta? Da quando questa foresta è tua? C'è il tuo nome sopra? No, ma ho già pisciato su tutti gli alberi. Quindi cosa? La foresta non ti appartiene ancora. Ti sto dando un avvertimento adesso. Metti la tua casa sull'albero da qualche altra parte. O avrai problemi con noi. L'hai capito? Non abbiamo paura di te. E ora esci da qui prima che vada a prendere mio padre. Ti abbiamo avvertito. Tutto ciò che accade d'ora in poi è colpa tua. Hai impacchettato tutto? Sì, penso che abbiamo tutto. Samuel, hai un paio di mutande da cambiare? Sai cos'è successo l'ultima volta? Sì mamma, l'ho impacchettato. Va bene, allora divertiti. Grazie mamma, ci vediamo dopo. Ehi ragazzi, abbiamo portato tutto con noi. Anche un rotolo di carta igienica in caso di emergenza. È bello riaverti qui. C'erano solo tre ragazzi qui che ci minacciavano. Cosa hanno detto? Che la foresta appartiene a loro. Sono stupidi. La foresta non appartiene a nessuno. Sì, l'ho detto anche a loro. Smettiamo di pensare a questi ragazzi. Allestiamo invece la nostra casa sull'albero. Hai assolutamente ragione, Lisa. Cosa ne pensi Paul? Cosa dobbiamo fare con i nuovi ragazzi? Questa è la nostra foresta. Non hanno il diritto di stare qui. Dobbiamo dimostrarlo a loro. Ok, e come possiamo farlo? Ho il piano perfetto. Sei pronto per la nostra prima notte nella casa sull'albero? Sì, sarà davvero figo. Ci sono già tre coleotteri sulla mia coperta. Dormo decisamente meglio che a casa. Ok, buonanotte ragazzi. Buonanotte Lisa. Dovremmo davvero farlo? Sì, non è un po' troppo difficile? Troppo duro? Penso che siamo troppo gentili. Anche gli altri hanno cercato di spaventarci. Siamo allo stato brado qui. Solo i più forti sopravvivono, capisci? Ok, facciamolo allora. Ora aiutami a preparare tutto. Ce l'hai? Sì, arrivo subito. Molto bene, è così che me lo immaginavo. Penso che stia arrivando qualcuno. Andiamocene da qui prima di farci prendere. Abbiamo finito, andiamo. Questo non lo capisco. Abbiamo una casa così bella. Perché i nostri bambini preferiscono dormire nel bosco? Sono ancora giovani. Lasciali divertire. Sono in mezzo al bosco. È davvero pericoloso. Perché questo non ti dà fastidio? Oh, non succede niente lì. Ehi ragazzi, lo sentite anche voi? Ciao Samuel. Che succede? C'è un odore un po' bruciato qui, vero? Sì, hai ragione. Penso che stia bruciandola fuori. Ragazzi, dobbiamo andarcene da qui il prima possibile. Cosa sta succedendo? Ancora cinque minuti, mamma. Esci subito da qui. La nostra casa sull'albero è in fiamme. Come è potuto succedere? Senti, qualcuno ha piccato un incendio. La nostra casa sull'albero è stata incendiata di proposito. Chi l'ha fatto? So chi è stato. Erano i tre ragazzi di prima. Pensi davvero che farebbero qualcosa del genere? Sì, chi altro? Se ne pentiranno. Perché dovremmo venire qui, Sara? È tutto il giorno che li cerco. Poi ho trovato la casa sull'albero dei tre tipi. Cosa stai facendo? Ci vendicheremo di loro. Vieni con me. Questa è la loro casa sull'albero. Sei sicuro che vivano qui? Sì, li ho visti partire prima. E cosa facciamo adesso? Beh, cosa ne pensi? Diamo fuoco alla tua casa sull'albero. L'abbiamo mostrato ai due nuovi ragazzi. Sicuramente non torneranno presto. Non lo so, Paul. Non credi nel karma o qualcosa del genere? No. Credo solo nelle regole della foresta. Spero che non ritorni. Non fare l'imbecille e mangia il tuo hamburger. Aspetta, ho un'idea migliore. Meglio che illuminare la casa sull'albero. Sì, devo fare una chiamata veloce. Qualcuno mi deve ancora un favore. Ciao, sono Willy. Ciao Willy, sono Lisa. Ehi Lisa, che succede? Domanda veloce. Quanto velocemente si può trasportare una casa sull'albero? Dovrebbe essere veloce. Perché me lo stai chiedendo? Mi devi ancora un favore, vero? Sì, questo è il modo in cui abbiamo concordato. Ok, ti mando subito una posizione. Ti prego, vieni qui. E porta un camion. Ok, sarò da te tra un minuto. Dov'è finita la nostra casa sull'albero? Era proprio qui. È quello che ho detto. Il karma esiste davvero. Ti sta bene, Lisa? Sì, grazie. È perfetto. Ora la casa sull'albero è nel nostro giardino. Non ricevo una mancia? No, era solo un favore. Oh ok, peccato. Quanti alberi abbattono Lisa e Marcus? A, 1 B, 2 C, 3 Lascia un commento.